La mostra DAU di Kastenholler segue quella di ipotesi di Filippa Renault e infatti compartono non solo il fatto che hanno collaborato nel passato ma anche un titolo che anche sarebbe due versioni di uno stesso tema, ipotesi dubbio come motore di ricerca. Kastenholler venendo da un mondo scientifico applica strumenti del mondo della ricerca scientifica per applicarli al mondo dell'arte. Già dentro il corridoio l'ospettatore si mette in equilibrio inestabile, escono le sue paure ma quando esce già nello spazio luminoso della mostra diciamo che è una specie di processo di pulizia mentale dove l'ospettatore lascia i suoi preconcetti e si confronta non solo con le opere ma anche è obbligato a interagire con loro per poter realmente dare un significato e compiere quello che è l'opera. L'opera ha bisogno di questo convivimento dell'ospettatore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.